Ciao, stiamo finendo di valutare le fotografie che hanno partecipato al concorso Posti da Lupi legato al progetto Life chiamato Wolf Alps. Abbiamo deciso di valutare le foto sulla base di tre fattori principali legati in particolare a quello che era l'attinenza al concorso e all'originalità che si dava alla singola foto e in minor misura anche al grado di bellezza, estetica, tecnica legata all'esecuzione della foto. Questo perché era possibile condividere fotografie sui social, su strumenti che normalmente non decretano una grande qualità fotografica ma abbiamo voluto invece favorire quella che era l'immagine, cioè l'evocatività dell'immagine stessa. Le foto vincitrici saranno poi esposte in una bellissima mostra che si terrà qui al Muse a primavera 2016 e per poter essere informati sugli orari in cui sarà possibile visitarla dovete andare sul sito del progetto Life Wolf Alps che è lifeolfalps.eu Vi aspettiamo!